La variale oggi abbiamo presentato un'ipotesi di costituzione di una struttura che dovrebbe essere a supporto dei comuni per la realizzazione finalmente delle smart city anche alla città metropolitana. Certo, una struttura che fa da osservatorio per innanzitutto recepire le esigenze, guardare anche al di fuori del contesto metropolitano per trovare spunti e idee dagli attori principali della nostra terra, della città metropolitana per iniziare a piantare quei semi tecnologici che porteranno anche la città metropolitana ad essere una città intelligente, quindi una smart city. Cos'è una smart city? È un luogo, una città dove esistono infrastrutture materiali ma soprattutto immateriali e quindi c'è uno scambio di informazioni tra dispositivi tecnologici che hanno lo scopo di ottimizzare i processi della nostra quotidianità e ciò significa anche migliorare l'ambiente e migliorare anche la salute dei cittadini per poi anche fornire dei servizi che oggi magari esistono ma è difficile appunto reperirli.